Roma, ecco la frase di Berardi sul di Mourinho che fa sognare i tifosi. Roma Pietro Berardi è il suo auspicio sul futuro di Jose Mourinho. La mia convinzione è che anche l'anno prossimo Mourinho sarà allenatore della Roma. Così il ceo giallorosso ha parlato ai tifosi nel corso dell'evento i nostri primi 20 anni del Roma Club Montecitorio. Con Mourinho ha giunto Berardi siamo a metà contratto, un anno e mezzo. Lui è molto determinato soffre per l'astroma per raggiungere risultato. Virgola